Mi rendo conto che comunque dentro di me c'è questo vuoto che non sono riuscita a realizzare il fatto di diventare mamma, di avere un bambino. Sì, ci sono delle persone che comunque scelgono di non averne, cioè non gliene do nessuna colla perché comunque ognuno di noi se lo deve sentire dentro il fatto di diventare mamma o meno. Io non è stata una scelta, è stata una fatalità al destino, non so come definirlo. Anche per me non è stata una scelta, è stata una condizione, sono state le circostanze che mi hanno portato a non avere figli, però non l'ho vissuta male, continuo a vivere, ci ho pensato su, però non per questo non percorro la mia vita, continuo a percorrere la mia vita nel modo in cui mi sembra che sia giusto per me.